Raccolta differenziata corretta e rispetto del codice stradale. Questi gli obiettivi della Polizia Municipale di Cartoceto, che ha annunciato un aumento dei controlli a partire dallo smaltimento dei rifiuti. Un modo questo che consente di sostenere i tanti cittadini che si impegnano quotidianamente e grazie ai quali sin dal 2011 Cartoceto raggiunge percentuali di raccolta superiori al 70%, ricevendo il premio di comune riciclone. L'attività, come spiegato dal Maggiore Fabio Mazze, responsabile del corpo, consiste nel sanzionare i casi di irregolarità, segnalati sia dagli operatori ecologici sia dagli agenti, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. È stato annunciato un giro di vite. Che cosa prevede questo piano di controllo? Non è che è un giro di vite. A grandi linee questi controlli li abbiamo sempre fatti. Però con, non sappiamo ancora la data certa, con il passaggio alla tariffa puntuale, si prevede all'inizio un incremento degli abbandoni sul territorio. E quindi cerchiamo di limitare sin da subito questi spiacevoli inconvenienti. Praticamente, controlliamo noi personalmente, prima di tutto, le varie isole ecologiche. Poi abbiamo della videosorveglianza, quella generale, ma anche una videosorveglianza più mirata. Praticamente sono delle telecamere mobili nascoste, che possono essere sia in abitazioni, sia, insomma, sono nascoste. Non si vedono e non si possono, anche se ci sono dappertutto i cartelli di avviso di aria sorvegliata. Se notiamo in quel periodo degli abbandoni indiscriminati o al di fuori del regolamento, andiamo a visionare le immagini e sanzioniamo o i veicoli o le persone. Anche per quanto riguarda la circolazione stradale, soprattutto a seguito di incidenti che avrebbero potuto avere conseguenze peggiori, l'attività dei vigili si sta rilevando, costante e capillare. Per quanto siamo solo in cinque, ma facciamo due postazioni giornaliere, sia al mattino che al pomeriggio, con il telelaser, sempre a rotazione sul territorio comunale di Cartoceto e di Monbaroccio. Sarei molto contenta, visto che io in cima alla strada ho proprio una discarica a cielo aperto, proprio. Proprio ieri ne parlavo con il mio compagno, è una cosa vergognosa. È vero che c'è la gente molto incivile, perché se no la raccolta, sinceramente, per quello che mi riguarda, funziona. Perché qui al martedì vengono a prendere i rifiuti, quelli che ho, e io tutti i martedì, i secondi martedì ogni mese, mi rieco lì. Quindi il modo di fare bene c'è, però purtroppo qui è l'inciviltà della gente. E magari ci fossero e venisse punito chi è che veramente butta. Io in cima alla strada mia, la settimana scorsa, c'era un coniglio morto, ci hanno lasciato. Siamo proprio... è la gente purtroppo che è incivile, veramente. Io la dà spasso, quel sacchettino per il cane e tutto, ma molta gente, la maggior parte della gente non lo fa. Non ne ho saputo niente. Comunque non è un male che ci sia un maggior controllo, secondo me, visto che comunque chi guida e telefona, chi... È sempre comunque un problema per tutti, allora preferibile che i controlli ci siano. Per quel che riguarda, diciamo, poi anche sul discorso rifiuti, beh, sinceramente vedere in giro i cumuli dell'immondizia non è piacevole. Quindi meglio se c'è controllo.